no ma forza oddio sì sì alle gare ti frega questo qua ecco il presidente che ha spionato vada via il culo vai va imparo da lui cazzo imparo va bene non devo fare così a legare ticciula perché lui va di là e te prendi cinque bocce del punto non è che magari porti un po di sfiga questo ti fa capire in che condizioni siamo così non si fa è Grazie a tutti.